20 marzo giornata internazionale della felicità questa ricorrenza stabilita dall'assemblea generale delle nazioni unite a partire dal 2013 è dedicata a riconoscere in tutto il mondo l'importanza della felicità nella vita delle persone gli obiettivi di sviluppo sostenibile ne contengono gli aspetti chiave la riduzione delle disuguaglianze lo sradicamento della povertà e la protezione del pianeta la giornata è anche l'occasione per ribadire la necessità per i governi di un approccio più inclusivo equo e bilanciato alla crescita economica volto a promuovere lo sviluppo sostenibile e il benessere dei popoli come obiettivi e aspirazioni universali nella vita degli esseri umani di tutto il pianeta e l'importanza del loro riconoscimento negli obiettivi di politica pubblica un piccolo paese asiatico il bhutan è l'unico stato al mondo che misura il valore della felicità considerandolo prevalente rispetto a quello del reddito nel 1974 infatti ha adottato il parametro della felicità nazionale lorda sostituendolo al prodotto interno lordo